Ebiter Campania è un ente bilaterale per il terziario, composto da Confcommercio, Filcam CGL, Fisaskat CISL, Wiltux Will. È ammesso una serie di iniziative in campo in favore degli associati, stanziando fondi per sostenere le spese di trasporto, casa lavoro, fondi scolastici con l'erogazione di borse di studio per i figli diplomati universitari. C'è un bonus Covid-19 lavoratori che eroga 150 euro per gli studenti iscritti alla scuola primaria e alla scuola media di 200 euro per quelli iscritti alle superiori. Il bonus Covid-19 per le imprese, un massimo di 250 euro per sostenere le imprese nell'adeguamento delle condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. C'è poi quello di trasporto, casa lavoro. È un contributo in favore dei dipendenti delle aziende del terziario a sostegno delle spese di trasporto, casa lavoro, con un importo pari al 30% della spesa sostenuta nel periodo dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, con un massimale di 100 euro. Ed infine borse di studio di 300 euro riservate a studenti delle scuole medie e superiori, che hanno conseguito il titolo finale nell'anno scolastico 2019-2020, e borse di studio di 500 euro riservate a studenti universitari. In un momento come questo abbiamo pensato di partecipare in minima parte con un contributo, dare la cosiddetta boccata d'aria a quei lavoratori che si vedono affrontare delle spese che sono di natura sui trasporti, sulle spese per i bambini che affrontano le scuole primarie e secondarie sui libri, dare un piccolo contributo per dire che l'ente c'è. Sono diverse misure a sostegno dei lavoratori che hanno subito la cassa integrazione o qualsiasi tipo di ammortizzatore sociale. I bandi completi e le modalità di presentazione della domanda sono disponibili sul sito www.ebitercampania.it nella sezione bandi. Per qualsiasi informazione è possibile contattare la segreteria dell'Ebiter Campania al numero 328 97 69 757 oppure tramite l'indirizzo email ebitercampaniachiocciolagmail.com